L'attrice statunitense Shailene Woodley è stata arrestata nel Dakota del Nord durante una protesta contro un oleodotto. Le immagini del fermo sono state postate su Facebook Live dalla madre. Il video è immediatamente diventato virale ed è stato visto da oltre 2 milioni di persone in poche ore. Insieme alla protagonista di Divergent sono state fermate una trentina di persone. Per i nativi americani il progetto, oltre a danneggiare l'ambiente, viola un territorio considerato sacro dalle tribù locali. L'oleodotto costerebbe l'equivalente di oltre 3 miliardi di euro e dovrebbe attraversare 4 stati, l'Iowa, l'Illinois, il Dakota del Nord e il Dakota del Sud. Secondo l'azienda che intende costruirlo il trasporto del greggio in questo modo è più sicuro e pulito. Per gli ambientalisti invece il passaggio di una quantità di greggio pari a 570 mila barili al giorno metterebbe in pericolo i corsi d'acqua.